buongiorno ragazzi questa settimana ci avvieremo allo studio del riconoscimento delle frasi principali coordinate e subordinate all'interno dei periodi partiamo da degli esempi sogna legge un libro e silvana guarda un documentario due frasi in un periodo la prima frase sogna legge un libro ha senso compiuto da sola si sogna il soggetto e abbiamo l'azione che compie sogna e anche che è quella di leggere e anche che cosa legge un libro poi abbiamo una congiunzione la e è una seconda frase silvana guarda un documentario anche qui abbiamo il soggetto il predicato verbale e anche che il verbo guardare anche che cosa guarda quindi una frase che di per sé se io dico silvana guarda un documentario questa frase ha senso da sola sì quindi se la frase è dipendente da una principale perché ad essa legata in questo caso dalla congiunzione coordinante è ma avremmo potuto avere una dipendente coordinata legata alla principale da un segno di punteggiatura quali la virgola o i due punti dicevo se la frase è dipendente ma è allo stesso piano della principale ovvero ha senso compiuto anche di per sé si dice che la frase è coordinata alla frase principale vediamo invece questo secondo periodo paolo va al lavoro in macchina poiché è influenzato qual è la frase di senso compiuto in questo periodo paolo va al lavoro in macchina ha senso compiuto da sola questa frase ha senso compiuto questa frase dalla frase principale paolo va al lavoro in macchina questa frase ha senso compiuto da sola ma certo che no quindi questa seconda frase poiché non ha senso compiuto da sola e poiché è collegata alla frase principale da una preposizione subordinante si dice che è subordinata alla principale quindi in un periodo possiamo avere la frase principale che è la frase di senso compiuto la frase che riporta l'informazione più importante senza la quale le frasi dipendenti le altre contenute nel periodo non avrebbero modo di essere avrebbero senso le frasi dipendenti dalla principale possono essere sia coordinate che subordinate sono coordinate quelle frasi che sono sullo stesso piano della principale e sono collegate alla frase principale da un segno di puntenciatura i due punti o la virgola o da una congiunzione coordinante come nel caso del nostro esempio avevamo la congiunzione coordinante e sono subordinate invece frasi dipendenti dalla principale quelle frasi che di per sé non hanno un senso compiuto e sono collegate alla principale per mezzo di una congiunzione subordinante o da una preposizione nel nostro esempio avevamo la preposizione poiché è influenzato spero di essere stata sufficientemente chiara vi abbraccio e vi saluto con un appresto ciao ciao ragazzi ciao